buongiorno e bentornati al muro del pianto dei mass media tetano nessun motivo per andare in panico è poco probabile contagiarsi con il tetano quando si è in presenza di una ferita che sta sanguinando per bene il tetano è diventato raro al giorno d'oggi in germania nel 1945 si contavano 250.000 casi e nel 1985 invece soltanto 4 neanche un tetano superato di maniera naturale porta l'immunità e di conseguenza il vaccino è inutile persone sane hanno buone probabilità di guarigione si nota da parte dell'industria farmaceutica un comportamento simile anche con tante altre cosiddette malattie infettive vuole saperne di più rimanga sintonizzato su klage mauer tv ea presto